allora bentornati sui grandi tecnici voi state assistendo a un fantastico caricamento siamo su far cry 4 e andiamo a fare un avamposto di quelli difficili una fortezza che poi non è un avamposto andiamo a fare barca shot no non è vero bar shakot ah non ti ho fatto vedere il mio nuovo antipop trasparente l'hai visto funziona benissimo allora impostiamo la destination e andiamo a prendere il nostro solito veicolo locomotivo oh finalmente ah bello il quodino che ci piace sempre lo sai che fallirà in una maniera proprio non ho neanche preso le armi non ho preso niente vado così ma credo ci siano quelle dell'ultima volta non hai preso le munizioni più che tu beh vabbè io sto benissimo anche senza munizioni ma taglia il quod faccio tutto di corpo a corpo vai dritto 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 di lì boom vai vai tira dritto la montagna laggiù ahia tutto di corpo a corpo tutto di corpo a corpo ma l'hai già fatta la missione in cui indebolisci la fortezza l'ho fatto sì eh sì no allora 400 metrini quindi c'è il cancello sfondato ma lo vedremo subito perché una l'ho fatta non so se è quella perché nel caso in cui non ci fosse il cancello sfondato tutte le le fortezze hanno un'entrata segreta si ho capito e io non mi ricordo assolutamente qual è l'entrata segreta di la sciacotta come va allora ci siamo eh sì sì cioè quegli stronzi mi hanno preso questi qua ti hanno investito sì sì l'hai già attaccata e boh fai fuori quel cecchino guardalo guarda che bello ma aspetta io mi sono portato mi sono portato l'equipaggiamento giusto dove lo vedevi il cecchino quello bello non l'ho mancato no no ha una testa molto resistente ma l'ho fatto apposta perché così adesso sapeva dove mirare non ce l'ho fatto in tempo quindi allora ecco guarda lì c'è un'entrata segreta segreta quella è segretissima proprio hai tolato il sapone sì sì com'è che si sale devi arrotolare la fuma aspetta devo capirlo perché cerchio aspetta e non me lo ricordo senti no mi stanno vedendo prova uno dei due grilletti ecco appunto che bravo ecco ma cazzo qua mi vedono tutti vai nell'angolino giù vado qua qua non mi vede nessuno ti hanno solo sentito no 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 mi ha sentito nessuno fai fuori l'allarme va eh no non ti hanno sentito non mi hanno sentito hanno solo sospettato di avermi sentito allora c'è un allarme appena tu sbuchi adesso ti giri a destra io ti guido dalla mappa sì anche perché io non la vedo la mappa ah già sì ecco allora ecco guardati dritto vedi se non ci fosse quel camion tu guardando oltre eh vedi l'allarme vedresti una casetta che sul lato ovest ha il l'allarme ho capito vai dietro questo coso giallo allora qua dentro non c'è nessuno non ne sarei così sicuro no non c'è nessuno allora questo quello non è un allarme è questo cazzo quello non lo fai fuori ci sono i potenti quelli li fai fuori con qualcuno li faccio fuori con questo eh così non ti individuano posso fare qualcos'altro scusa sì puoi far fuori gli allarmi prima di tutto tra l'altro ce n'era uno lì di allarme o sbaglio no non era un allarme eh non c'è nella mappa comunque non è un allarme e poi sono rossi gli allarmi ah fammi vedere un attimo dammi un ah eccolo lì guardalo quello stronzo vabbè ma lui per adesso lascialo anche perdere no no quello muore ok come mai sei così tattico stavolta mi hanno visto io te l'ho detto lascialo perdere sì ma chi se ne ha accorto tanto qua sopra non mi vedranno mai no no però sono qua dentro vogliamo vedere queste lamiere o ti sporgi un po' per fare fuori l'allarme tanto non ti vedo eh sono tutti qua qua sotto comunque c'è l'allarme guarda c'è il ma non c'è nella mappa credo sia già rotto ti vede non lo fai fuori con colpo è inutile no? no però con questo sì no con quello ce voglio almeno tre credo due sicuro bene inizia la festa avevi iniziato così bene adesso ti fanno un culo proprio ti ti aprono in due quanti ne vuole di questi? un caricatore ok sì un caricatore ah l'allarme perfetto è perfetto eh qua sopra il cane non può venire quanto senso allora è uccidendo il cane perché sì perché lui mi dà un sacco fastidio l'altra volta mi ha fatto il culo adesso arriva l'elicottero ma mi ha fatto il culo il cane l'ultima volta chi mi sta prendendo eh quella cosetta in cui ti parlavo prima che vole davvero quindi se io entro qua dentro sono salvissimo credo eh sì è l'elicottero sento il rumore delle palle eh sulla mappa sono segnati tutti sopra secondo e perché sono sopra vero? tutti sopra guardali sono tutti al tuo livello in realtà sono solo fuori dalla ti uccideranno proprio tanto quanto sto durando? stai durando tantissimo questo l'apprezzo l'hai ucciso proprio a culo una cosa incredibile cazzo ma dai ma non è possibile vieni qua vieni qua non so se stai vedendo dove ho sparato guarda l'ombra dell'elicottero che paura terrore ma qualche possibilità ce l'hai lo ammetto qualcuna poca però puoi sfruttarla eccolo guarda che quello pensa di farmi fuori stando lì stronzo vieni qua ok ecco adesso ecco io questo video lo chiamerò la grande rivincita aspetta non canta al vittorio allora l'elicottero madonna com'hai fatto? eh normalmente ne avresti sparato uno ai tuoi piedi uccidendoti e uno a caso molto più in alto mamma mia che grande successo sto avendo cazzo e ne arrivano sempre due cioè credo arrivi una ripetizione e ne ho solo ho solo più quattro colpetti di questo adesso vado di assalto perché qua dietro fanno una fatica boia ad uccidermi cioè dall'elicottero guardali dove è finito quest'elicottero? guardali uno visto è caduto da solo si si e chi è che l'ha fatto fuori oltre a me scusa no è vero c'è un altro elicottero però non è giusto te l'ho detto devi spaccare l'allarme l'allarme eh si vado a prendere l'allarme allora qua c'è qualcuno cioè credo sia per quello non mi ricordo più allora prendiamo l'arma come si deve eh questa si che è bella allora l'allarme è quello? no vero? no quello è un coso di lente anzi è un secchietto allora ce n'è uno qua questa questa mi ha fatto malissimo l'allarme non lo vedi questa mi ha fatto davvero male dove l'elicottero? lo voglio pigliare sto elicottero guardali notare la concentrazione era in mezzo alle fiamme quel cecchino quello fa paura guardalo in mezzo al fuoco tra l'altro qua ci sono le frecce che però non mi serve e per un attimo il laser è passato attraverso il muro è mai giusto così guarda spostati ce n'è un altro ma ce n'è un altro oh ok adesso correrò nell'altra casetta guarda bravo qua non mi vede nessuno e adesso fai fuori sta allarma che ci sei vicino girati cazzo c'è l'elicottero eh già guarda è lì quello giallo ancora ok perfetto fai fuori l'elicottero dovresti farcela credo manchi lui solo ok ancora un colpetto complimenti eh stavo giocando io non so se incredibile proprio in staccato credibile io dire questo video mi sa che anche paghi 5 euro di facebook per metterlo in evidenza bene bene allora se il video finisce qua prima che faccia qualche altra cazzata e ci vediamo al prossimo video arrivederci fammi fare un ame va